Orgoglio. L'orgoglio è la mancanza di umiltà o di disponibilità a imparare. L'orgoglio pone le persone le une contro le altre e contro Dio. La persona orgogliosa si pone al di sopra di coloro che la circondano e segue la propria volontà anziché quella di Dio. Anità, invidia, capabilità e altezzosità sono le caratteristiche della persona orgogliosa.